E volevo chiederti Pierpaolo, proprio sulle banche, visto che è un argomento molto caldo, un po' chiaramente legato anche alle tensioni che ci sono state, chiaramente che ci sono forti in ambito politico in Europa, sul settore bancario hai qualche strategia da mostrarci, qualche strategia significativa da mostrarci? Io partirei innanzitutto dall'indice bancario, che è quello più rappresentativo dell'area euro, dove peraltro c'è stata una discesa più pesante rispetto ai bancari italiani, perché come credo sia assolutamente noto, nell'ultima settimana la pressione è stata molto forte sul settore bancario francese, sicuramente meno forte su quello italiano, ma tra l'altro questa dinamica di forza relativa del nostro settore bancario va avanti ormai da diverso tempo, considerando che dai minimi il Banks Italy, l'indice delle banche europee era cresciuto del 70%, quello europeo del 43%, quindi comunque c'è stata una forza relativa a cui abbiamo assistito già da molti mesi a questa parte e anche nella fase di correzione comunque le nostre banche stanno tenendo meglio. Se però pensiamo a livello così di aurea euro per non esporsi esclusivamente su una banca o su un'area geografica, qui ci sono un po' di livelli importanti, perché ad esempio innanzitutto l'indice Eurostox Banks ha raggiunto già il 50% di ritracciamento, l'aveva anche rotto nella seduta di venerdì, oggi il rimbalzo come dicevamo c'è stato, anche se non così ovviamente, ma comunque c'è stato e io direi di fare attenzione alla tenuta dei 133 punti, poi da qui magari Matteo potrà farci vedere perché ci sono dei certificati che possono aiutarci, tra l'altro uno l'ho anche messo nel mio portafoglio proprio in chiusura di giornata, un prodotto long in copertura degli short che ho in questo momento da diverso tempo ormai in realtà sul settore, sul Futsimib, quindi sto provando a vedere se comunque il rimbalzo di domani dovesse essere significativo, quindi Matteo ci potrà far vedere qualcosa di più. Però dicevo quindi, area 133 punti per gli Eurostox Banks è comunque importante, se dovesse tenere a questo punto si potrebbe pensare a qualcosa di più sotto i 133 farei attenzione esattamente come per il titolo intesa, anche se qui lo spazio ritengo sia un po' più ridotto per far sì che si possa considerare una breve correzione. Cosa voglio dire? Che se dovessero accentuare il ribasso nelle prossime due, tre, diciamo da qui a venerdì, per gli Eurostox Banks si potrebbe aprire la strada per una discesa un po' più importante. Intendiamoci, e qui graficamente si può vedere cosa sto dicendo, praticamente abbiamo il minimo di seduta di venerdì che era stato fatto al di sotto di questa fascia del 50% che è il ritracciamento del movimento iniziato a febbraio e se dovessero romperci andiamo sotto i 129 o almeno in area 129. Attenzione, comunque se si fa trading bisogna guardare a questi livelli. Se si è invece su un'impostazione di medio periodo ritengo lo scenario attuale assolutamente correttivo in un trend che vedrà comunque il settore bancario poi riprendersi, quindi in realtà è da sfruttare questa fase. Però se si fa trading, soprattutto con i prodotti si alleva bisogna fare attenzione a cosa si sceglie anche a questi livelli.